Ciao sono Tim e in questo video ti spiegherò nei dettagli le caratteristiche del monopattino elettrico Ducati City Cross. Prima di iniziare ti consiglio di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità nel settore della micromobilità elettrica. Il punto di forza del monopattino Ducati City Cross è il design sportivo che conferisce al monopattino uno stile unico nel suo genere. Il telaio è in lega di alluminio, un materiale resistente e leggero. La pedana è molto ampia quindi offre il massimo comfort durante la guida. Il materiale antiscivolo dell'impugnatura garantisce la massima adesione al veicolo e garantisce una guida sicura. Il display LED ti dà la possibilità di monitorare i dati di guida, chilometraggio, velocità e la durata rimanente della batteria. Si possono personalizzare le impostazioni di controllo di crociera. Si può anche godere di nuove funzionalità e ottenere una più confortevole esperienza di guida attraverso gli aggiornamenti del firmware. Il monopattino è dotato di un motore E-Brussels da 350 W che permette di muoversi sulle strade urbane anche quando il fondo stradale non è perfettamente liscio. La potenza massima del motore può arrivare a 700 W. Il modello si presta quindi bene all'uso cittadino anche su strade dissestate. Questo tipo di motore richiede pochissima manutenzione e ha un livello di usura estremamente basso. La batteria a litio potenziata è di 12,5 A. Con una carica completa e una velocità media di 15 km orari, puoi coprire fino a 45 km. I valori effettivi variano a seconda del peso del guidatore, delle condizioni della strada. È possibile monitorare il livello della batteria sul display e tutte le funzioni, comprese le tre modalità di guida che sono azionate tramite il display a LED. Le prove effettuate su questa batteria dicono che questa batteria può avere circa 1000 cicli di ricarica. Ne consegue un risparmio enorme considerando il costo elevato del carburante. Il faro consente di utilizzare il veicolo di notte con un'eccellente visibilità. Le ruote anteriori e posteriori da 10 pollici sono dotate di pneumatici con camera d'aria e assetto fuoristrada. Sono ideali anche per tratti stradali accidentati e irregolari e sono in grado di assorbire le vibrazioni durante la guida. Il grado di impermeabilizzazione è un IP54. Quindi è possibile utilizzare il monopattino anche sotto la pioggia. Il costo del monopattino Ducati City Cross è di 641 euro. Il costo è comprensivo di consegna. Inoltre è possibile rateizzare l'acquisto del monopattino in tre rate senza interessi. Acquistando il monopattino in contanti riceverete un buono sconto del 5%. La garanzia è biennale e l'assistenza Ducati è italiana. L'assicurazione Family Protection è inclusa nell'acquisto del City Cross sottoscritto da uno dei più grandi nomi del settore assicurativo, AXA Assistance. È possibile acquistare il monopattino Ducati City Cross sul sito web supermonopattino.it.